Grandissima vittoria oggi nel campo di Spoleto, fuori casa, contro una squadra fortissima che non ha bisogno di presentazioni. Abbiamo giocato molto molto bene, una partita veramente bella e divertente da giocare. È stata una grande vittoria, sono molto contento di questi tre punti. Avanti così, avanti Brescia, porta Brescia. Questi sono tre punti fondamentali, però il campionato è ancora molto lungo. E come dico sempre, questa è solamente una fetta della torta che a fine anno vogliamo portarci a casa. Quindi bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. Detto questo, oggi possiamo goderci questa incredibile vittoria e forza Brescia. Ciao ragazzi!